Comparirà di fronte al giudice il prossimo 11 giugno Sandro Mugnai, l'uomo che nel gennaio 2023 uccise con un fucile il vicino di casa Gesim Dodoli, che con la benna di un escavatore stava demolendo la sua abitazione a San Polo. In quella data infatti è stata fissata l'udienza preliminare. Spetterà al giudice del Tribunale di Arezzo Claudio Lara stabilire se Mugnai dovrà essere giudicato o potrà essere applicata la scriminante, ovvero la giustificazione che rende non punibile un reato della legittima difesa. Intanto i familiari della vittima, moglie, figli e fratello, pronti a costituirsi parte civile, hanno chiesto il sequestro conservativo dei beni dell'indagato in vista di un possibile risarcimento danni. La tragedia risale alla notte tra il 5 e il 6 gennaio 2023. L'artigiano si trovava in casa con la moglie, uno dei figli ed altri parenti. All'improvviso il vicino, con il quale in passato c'erano stati dei dissapori, salì sulla ruspa e la lanciò contro l'abitazione dopo essersi accanito contro le auto che erano sul piazzale. Mugnai a quel punto gli urlò di fermarsi, poi prese il fucile e sparò prima un colpo in aria, poi quattro diretti verso l'uomo uccidendolo. Venne arrestato e poi scarcerato dopo qualche giorno dal giudice Giulia Soldini, che di fatto qualificò l'episodio come legittima difesa. Per la PM Laura Taddei, titolare dell'inchiesta, si è trattato invece di una reazione spropositata.